Infermiere in pensione, ma finto medico in attività, con prezzi però davvero vantaggiosi. Un falso medico omeopata è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Brindisi. Si tratta di un uomo di 72 anni, originario di Milano, ma residente da qualche tempo a Francavilla Fontana, città di origine della moglie. Le accuse sono gravi, esercizio abusivo della professione sanitaria, falso materiale e usurpazione di titoli. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, arrivata dopo una lunga attività di indagine, ma anche di ascolto di alcuni pazienti ignari, i finanzieri della compagnia di Francavilla hanno accertato che era stato allestito un vero e proprio studio, dove l'anziano, senza nessuna laurea in medicina, esercitava la professione di omeopata. Sotto sequestro sono finiti numerosi medicinali, attrezzature elettromedicali, falsi diplomi e attestati di frequenza di corsi di specializzazione, rinvenuti anche, nel corso della perquisizione, dei tarocchi, le carte comunemente usate da maghi e indovini. Aspetto particolarmente inquietante, dato che il finto medico aveva, tra la sua nutrita clientela, anche malati affetti da patologie molto gravi, visitabili e quindi chissà curabili, al modico prezzo di 50 euro a visita, sulla carta un vero affare, nella realtà invece assolutamente illegale.